Sono arrivati i nuovi Softy Friends 2! Gli unici originali! Scopri chi brilla al buio, schiacciali, lanciali, allungali e trova il messaggio segreto! Con i morbidissimi amici il divertimento è assicurato! Softy Friends 2, in edicola a 2,99€ e la coccinella la trovi solo con Softy Friends Magazine è un prodotto... SPOTA!